Robin! Robin! Io, Robin, se me lo trovo davanti, gli tiro una... una legnata, tipo proprio così, vado... no, non è vero, non è vero, non è vero, gli darei fuoco e basta. Olsen, gli svedesi hanno detto che è meglio una mucca, però io ci ragionerei sopra perché una mucca c'è il rischio, c'è. A me meglio The Olsen probabilmente potrebbe essere, che cazzo ne so, Pistorius. Pistorius forse sarebbe meglio The Olsen, però senza le protesi, cioè proprio senza gambe, Pistorius sarebbe meglio The Olsen.